Sono l'aiutante in campo di Marco Letta, sono neutro però aiuto Marco perché il suo sarà un lavoro Molto importante quindi ha bisogno comunque di un aiuto chef Ho un aiutante Va bene Perché io cucino Con Si legge Buonasera Allora come va coi fornelli? Benissimo guarda Ci siamo tutti unti Io sono dalle due che faccio le lasagne Vado a salutare i cuochi veri Allora come sono? Come sono questi nuovi cuochi? Bravi bravi Cosa hanno fatto in realtà? No dai, hanno fatto una bella collaborazione diciamo Che non si ripeterà? No dai, speriamo che si ripeterà No dai Chef Guarise Abbiamo scottato in padella i gamberetti Leggermente Dopodichè abbiamo fatto le zucchine al forno Con tutte le verdure del nostro orto Davvero? Qua dietro ce l'abbiamo Stiamo facendo i crostini E quindi Pronto siamo ora a svelare il patitucco Con calma vi mostreremo Poco a poco Come siamo stati bravi ad ascoltare il nostro show E chi vince? Gli sportivi e i giornalisti? Non ci sto Grazie davvero Non ci sto Grazie Grazie davvero Grazie davvero